In materia di gestione dell'ambiente, comprese le aree di interesse naturalistico, la comunità sarda e le sue istituzioni sono in grado di fare da sé. Con questo spirito, la Giunta regionale ha deliberato di dare in carico all'ufficio legale di sollevare, nei confronti del governo, il conflitto di attribuzione. Nel Mirino c'è l'inserimento del Parco del Genargentu, nell'elenco di aree protette e diffuso dal Ministero dell'Ambiente. Questo decreto, in modo inopinato e io dico anche con un metodo che è assolutamente inaccettabile, quindi sono inaccettabili le ragioni di sostanza e quelle di metodo, ha stabilito una cosa che va in controtendenza, va in senso assolutamente contrario alla volontà della gente. Noi siamo contrari nel metodo e nella sostanza e abbiamo deliberato questa mattina di sollevare il conflitto di attribuzione col governo. Sui conflitti di attribuzione a decidere la Corte Costituzionale, l'esecutivo Sardo ha messo in conto che la delibera approvata questa mattina apre un contenzioso giuridico istituzionale con un governo amico. Quando ci sono in ballo questioni che riguardano la nostra terra, non c'è governo amico che tenga.